Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche perché diversi anni fa sono passato da queste parti e quindi adesso riecco. Grazie a tutti. 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 così la letteratura per quanto riguarda i temi fondamentali del dibattito che si è costruito intorno al tema della nazione, dello Stato nazionale, vorrei fare riferimento a due antinomie che hanno segnato il dibattito storiografico soprattutto negli ultimi vent'anni, cioè da quando negli ultimi venti trent'anni, da quando il tema della nazione ha riacquistato in qualche modo una centralità nel dibattito pubblico. Complessivamente gli storici, ma non solo gli storici, sociologi, politologi, scienziati politici, gli studiosi di relazione internazionale, i filosofi, sono confrontati su una duplice polarità. Si sono chiesti, sono due polarità strettamente connessi, si sono chiesti se la nazione sia stata e continua ad essere un dato per così dire, tra molte virgolette, naturale della vita associata, delle società contemporanee o delle società antiche, medievali, moderne e contemporanee, oppure invece se la nazione sia una costruzione artificiale, se la nazione sia, come recita il titolo di un libro che ha fatto molto discutere negli anni Ottanta, sia una comunità immaginata, sia il frutto di una vera e propria invenzione. Va bene, questa è stata una prima discussione che si è accesa, ripeto, negli ultimi anni. Le nazioni esistono in qualche modo da sempre come dati perenni, quasi naturali, non perenni, scusate, perenni lo dico subito dopo, della vita associata, oppure sono dei costrutti artificiali. Prima grande questione. Seconda grande questione, le nazioni appunto esistono, sono molto sovrapposte, quindi ho già un po' sbavato, diciamo, sulla seconda polarità. Le nazioni sono un dato perenne che esiste da sempre, diciamo così, della vita associata, oppure sono un oggetto storico che in qualche modo nasce in un certo periodo, in determinate condizioni della storia moderna e contemporanea e è destinato in qualche modo anche a tramontare, come molti autori hanno sostenuto. Insomma, è un dato naturale oppure un dato storico della vita delle comunità umane. Allora, in linea di massima su questi temi, diciamo, le tesi che risultano essere oggi dominanti, voglio citarvi come autori che si sono occupati di queste problematiche, Ernst Gelner, autore del 1983 di un importante libro intitolato Nazioni e nazionalismi, che è stato tradotto, se non vado errato, pochi anni dopo, ma poi è stato ritradotto nel 1985 dagli editori riuniti, come ha sostenuto Eric Hobsbawm in un libro che di nuovo si intitola, non sono molto originali, Nazioni e nazionalismi dal 1780, come ha sostenuto Benedict Anderson in quel libro che vi ho citato prima, Comunità Immaginate, dicevo, la tesi dominante sul tema della nazione, e poi come vedremo dello Stato-Nazione, è che appunto le nazioni siano il prodotto di una costruzione artificiale, siano il prodotto di una invenzione, di una sorta di ingegneria più o meno consapevole, e non certo dei dati naturali. Questa tesi, negli autori che vi ho citato, Hobsbawm, Gelner, Henderson, cito i tre grandi perché se no non finisco più, ma queste tesi sono state riprese ad esempio da Winkler in un volume più recente che è uscito alla fine degli anni 90 in Germania, intitolato Nazionalismo, tutti questi autori ritengono che le nazioni siano il frutto del nazionalismo e non viceversa. E il nazionalismo a creare le nazioni, quindi la volontà consapevole di certi gruppi umani, di certe elite, è il nazionalismo che crea la nazione e non viceversa. Le nazioni sono dei costrutti. Questo, attenzione, non vuol dire che siano meno importanti, siano più fragili, però sono dei costrutti in qualche modo artificiali. Poi vedremo per quali ragioni. Grazie.